l'inaugurazione che avverrà davvero tra pochissimo del nuovo centro vaccinale della ASL di Pescara nei locali di Palazzo Fuxas. Di tutto questo andiamo proprio a parlare con la nostra collega Antonella Micolitti in diretta con noi proprio da Pescara, da Palazzo Fuxas. Antonella, buongiorno a te, c'è anche il tuo ospite, in questo caso l'assessore comunale Eugenio Seccia. Insomma raccontateci tutto quello che c'è da sapere su questo avvenimento insomma che era atteso da giorni. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori della TG8. Sì, un evento che era atteso da giorni da tutta la cittadinanza. Apri alle 15 infatti battenti il nuovo centro vaccinale anticovid dell'ASL di Pescara nel Palazzo Fuxas che vedete alle mie spalle attraverso le immagini di Andrea Berardinelli di via Alessandro Volta. Quattro le linee vaccinali destinate subito a passare a 5 per adulti, over 12 e fascia 5,11. C'è una nota della ASL che dice che l'utilizzo del piano terra del Palazzo è stato reso possibile grazie all'impegno del sindaco Masci, dall'assessore Eugenio Seccia che è vicino a me, dalla Polizia Municipale e Protezione Civile, nonché alla sensibilità dimostrata dai proprietari e la famiglia De Cecco che ne ha concesso gratuitamente l'uso. Assessore Seccia, si era discusso in questi giorni di un altro centro vaccinale oltre a quello di Porta Nuova, tante le vicissitudini e la sinergia tra le istituzioni ha dato i suoi buoni frutti. Sì, non abbiamo mai preso le distanze dall'attività dell'ASL, l'abbiamo dimostrato in un tempo di recente passato, anche in questa occasione siamo venuti in soccorso dell'ASL per trovare questo nuovo centro vaccinale che praticamente rappresenta un secondo centro dove tutti i pescaresi possono in qualche modo avere la somministrazione del vaccino. Ringraziamo ovviamente la famiglia De Cecco, pari di Aristide e la signora Silvia Iezzi con la propria famiglia che hanno permesso tutto ciò perché loro hanno voluto concedere a condizioni ovviamente economiche praticamente inesistenti l'utilizzo dell'attività in questo centro per dare l'opportunità ai pescaresi di essere vaccinati. Quindi un grande plauso a loro, un grande plauso alla ASL e ovviamente a tutta la squadra che funziona ancora una volta sulla città di Pescara. Prime, seconde e terze dosi occorre la vaccinazione dove è possibile trovare ulteriori informazioni, Assessore? Sì, diciamo che sono orientativamente per le terze dosi, su prenotazione, però ovviamente come avviene già per Porta Nuova si possono anche presentare qui senza prenotazione e ovviamente la programmazione diciamo in maniera ufficiale la farà la ASL distinguendo la mattina per gli under, gli over 12 e per il pomeriggio per gli under 12. Però in realtà c'è la possibilità di fare anche per chi vuole sottoporsi a delle vaccinazioni in maniera volontaria e senza prenotazione. Cosa importante che come da richiesta della Sindaco Masci nel Comitato Ristetto dei Sindaci e dall'amministrazione comunale è presente anche la farmacia, quindi c'è la possibilità anche di somministrare oltre Moderna anche Pfizer eventualmente sotto la valutazione del medico a chi lo dovesse richiedere. Assessore, prima di congedare vogliamo ricordare gli orari e i giorni di apertura? Sì, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche sabato? Sabato sarà chiuso salvo ovviamente esigenze particolari della cittadinanza, però diciamo per il momento resteranno chiuso. Soddisfazione c'è? Assolutamente, siamo veramente soddisfatti perché ripetiamo questa macchina organizzativa complessa che ha sia la parte sanitaria dell'ASE che quella operativa della protezione civile è difficile da organizzare ma i sincronismi hanno funzionato bene e quindi siamo tutti per un unico obiettivo di raggiungere l'immunità a Pescara il prima possibile attraverso questa vaccinazione di massa. Grazie allora all'assessore alla protezione civile del Comune di Pescara, Eugenio Seccia. Noi la congediamo. Anna, se hai domande da studio? Sì, Antonella, so che questa mattina è presente anche, non so se già se ne è andato, ma comunque questa mattina sicuramente c'era anche il referente della campagna vaccinale per l'ASL di Pescara, il dottor Rossano Di Luzio, so che l'hai ascoltato anche questa mattina. Certamente e poi naturalmente l'approfondimento, ve lo ricordo questa sera con tutte le interviste, noi abbiamo ascoltato questa mattina, anzi poco fa, il dottor Rossano Di Luzio che come dicevi tu è responsabile della campagna vaccinale dell'ASL di Pescara che ci ha rilasciato questa intervista, la mandiamo in onda e poi ti restituisco la linea salutando te Anna e tutti i telespettatori del Tg8. Dottor Di Luzio, finalmente ci siamo, oggi si comincia con questa nuova avventura, istruzioni per l'uso agli utenti che ci stanno guardando. Allora, in questo hub, nei prossimi giorni, oggi, domani e venerdì, faremo le terze dosi, sarà dedicato alle terze dosi, mentre a partire dalla prossima settimana faremo la mattina gli adulti, cioè dai 12 anni, per adulti si intende dai 12 anni fino a sopra terze dosi, prime e seconde dosi, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Occorre la prenotazione? Occorre la prenotazione sia per le terze dosi che per i bambini dai 5 agli 11 anni, mentre gli adulti che devono fare la prima dose possono venire senza prenotazione, qui e in tutti gli hub della provincia di Pescara. Abbiamo letto farmacia, dunque immagino ci saranno anche le dosi Pfizer? Faremo tutti, avremo la disponibilità di tutti e due i vaccini, sia Moderna che Pfizer, ma ricordo che la scelta del vaccino è a cura del medico e non dell'utente. Ricordiamo anche che attiva sempre il centro di Pescara Porta Nuova. Assolutamente sì, il centro è attivo, rimarrà attivo dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio anche quel centro, dove faremo però l'isolo Moderna. Cosa significa questa inaugurazione per l'asle di Pescara dopo tante vicissitudini? Vogliamo dare e continuare il servizio che abbiamo offerto fino adesso, che grazie all'amministrazione comunale, devo dire che è sempre stato un servizio ottimo e speriamo di continuare su questa scia. Dottor Di Luzio, a vaccinazioni come siamo messi? Siamo messi molto bene, ne facciamo oltre 4.000 al giorno, siamo una delle province che fa più vaccini giornalmente, con ancora tante prime dosi e speriamo di continuare così, di terminare il prima possibile. Sono convincimento dei Novavax, mi sembra che ci sia riuscito in parte e vorrei da lei però anche un'attenzione particolare per le mamme che devono vaccinare i più piccoli. Sì, ricordo ad esempio degli ultimi casi a livello nazionale di bambini piccolissimi che sono stati contagiati e che sono in rianimazione. La vaccinazione per i bambini è utile per due motivi. Prima mette in sicurezza il bambino e poi riduce il pericolo di trasmissibilità del virus che adesso, come abbiamo visto, specialmente si trasmette tantissimo nelle scuole, negli ambienti di comunità. Grazie al dottor Di Luzio.